Qui con Mr. Guaglianone, appena vincente nella finale playoff contro la Beata Giuliana. Mr., quanta soddisfazione c'è per questo traguardo? Guarda, tanta, tanta, tanta soddisfazione. Un inizio dell'anno che è iniziato quest'anno con un gruppo di ragazzi giovani e la soddisfazione più grande è questa, di essere riusciti subito perché dei brai ragazzi che davvero ascoltano e riusciamo. Adesso la soddisfazione di aver poi, siamo venuti su con il nostro vivai, questo è bello. Siamo venuti su con ragazzi che sono degli allievi, gli unioni della nostra società e non abbiamo ragazzi da fuori. Questa è la crescita, speriamo, anche per un futuro della squadra. C'è una dedica, un ringraziamento particolare per questo successo? Al lavoro di tutti, al lavoro di tutti, dei ragazzi, dell'impegno che in questi giorni sotto l'acqua abbiamo dato lo stesso, non abbiamo mollato niente, non ha mai bollato. Hai visto anche la partita, abbiamo concesso poco proprio perché sono dei ragazzi contentissimi. Complimenti mister.